No, direi di no. I poteri ci sono nel decreto, però c'erano presenti alcuni paletti, diciamo non dal punto di vista dei poteri, ma dal punto di vista di altre cose che potevano dare gli effetti secondari non graditi. Invece adesso troveremo il modo per fare le cose bene. Quale sarà il ruolo di autostrade? Non lo so, questo non lo posso saperlo adesso perché bisognerà vedere chi parteciperà. Domani sarà il Ponte? Non lo so, bisognerà vedere chi parteciperà. Come sapete faremo una richiesta ad alcune aziende per partecipare e vedremo chi parteciperà. Ci sarà anche fin cantieri? Non lo so, non me lo chiedete perché non ha senso. Il potere di scelta sarà suo? Il potere di scelta sarà del commissario e della sua commissione, del suo team. Ovviamente non penserete che farà una scelta da solo. È troppo presto per fare delle previsioni di tempi? Troppo presto. Di tempi forse no, certo ho visto in precedenza che le cose si possono fare in tempi discreti, 12, 15, 16 mesi. Se parliamo di questi numeri io sono convinto che si possa fare un bel lavoro. C'è una promessa che può fare alla sua città, ai suoi cittadini? Non ho capito la domanda. C'è una promessa che può fare? Certo, una promessa che sarà di alta qualità e sarà nel minor tempo possibile. Questa è la promessa che io garantisco con la mia faccia. I soldi per fare il Ponte ci sono già tutti, giusto? 30 milioni all'anno. Beh, con 30 milioni all'anno non si fa un ponte. No, per 10 anni. Il meccanismo è piuttosto complesso. Quando faremo la conferenza stampa lo spiegherò a tutti sul modo con cui faremo i finanziamenti. Chi chiamerà a collaborare dell'anno che è? Sì.